Dalla dipendenza al lavoro, benessere in rete, si sono conclusi i corsi dell'Associazione Cuochi Avellinesi con la consegna e gli attestati finali presso Casa sulla Roccia. Grazie al progetto finanziato dalla Regione Campagna, da oggi si guarda il futuro dei partecipanti al corso con maggiore ottimismo, un lavoro teso a favorire la piena integrazione di categorie svantaggiate. Il progetto ha visto coinvolte anche persone diversamente abili al fine di contrastare le condizioni di fragilità e di svantaggio, contribuendo non solo a ridurre la marginalità e l'esclusione sociale, ma anche a potenziare l'autonomia lavorativa. Per chi ha ultimato il programma di riabilitazione, si prevede un sostegno nel percorso di reinserimento sociolavorativo, la fase più delicata, e per entrambi i target un sostegno nel raggiungimento del pieno benessere psicosociale. Benessere in rete non è un semplice slogan, ma il risultato del lavoro svolto da Casa sulla Roccia, Centro di Solidarietà, l'Associazione Culturale a Sud, l'Associazione di Cultura e Volontariato a Prea, l'Associazione Polivalente e Socioculturale Fenestrelle e la Proloco di Picarelli.